Buona giornata, buon venerdì mattina e soprattutto buona festa a tutti i fanesi che ci seguono questa mattina diretta alle 7 sul canale 17 di Fano TV perché oggi è San Paterniano, oggi è il nostro patrono e lo festeggiamo con tanto affetto, con tanto piacere. Oggi nella Basilica a lui dedicata c'è tutto un programma anche se con le limitazioni previste dai decreti e quindi a tutto ciò che riguarda l'anticontagio e il coronavirus per il resto ci apprestiamo a vivere questa giornata affidandoci a questo santo importante che forse noi non ricorderemo e non celebreremo mai abbastanza così come invece avviene in altre parti del mondo dove San Paterniano invece è celebrato con tutti gli onori ma anche noi oggi cercheremo in qualche modo di ricordarlo alle 11.15 vi ricordo che c'è appunto anche la messa in diretta con la Basilica, dalla Basilica insieme al Vescovo della Diocesi di Fano Armando Trasarti. Allora cominciamo dal, abbiamo visto il santo, adesso il tempo con la protezione civile delle Marche che per oggi indica come vedete dalla grafica un cielo sereno poco nuvoloso a parte qualche isolato breve rovescio o temporali pomeridiani sui settori interni ma in particolare meridionali quindi sempre sui monti sibillini. Domani invece peggiora, domani siamo nel fine settimana, sabato 11 luglio peggiora sulla costa e sull'entroterra settentrionale avremo possibili brevi rovescio temporali pomeridiani sui settori interni appunto e anche settentrionale poi anche sulla parte meridionale della Regione ancora temporali sparsi. Questa invece la fotografia è la previsione per domenica, domenica 12 luglio dove anche al mattino presto avremo rovescio temporali sparsi sul settore centro-settentrionale della Regione in esaurimento durante la prima parte della giornata quindi sarà uno strascico della notte. La prima parte della prossima settimana invece sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato. Allora buongiorno a Tommy, il nostro bagnino che tutte le mattine ci fa una sorta di bollettino veloce del tempo ci fa vedere soprattutto com'è la situazione del tempo oggi in una spiaggia di Fano, siamo nella spiaggia di Bagnicarlo. Ciao Tommy, allora come abbiamo detto poco fa questa sarà una giornata di sole piena ma domani e dopodomani ci sarà il cattivo tempo. Sì, buongiorno Marco, buongiorno. Intanto oggi la giornata si presenta bellissima, il mare è piatto, è cristallino, la bandiera oggi sarà bianca quindi direi di godere al massimo il mare oggi visto che domani probabilmente il weekend sarà un pochettino compromesso dal mal tempo. Quindi oggi perfetta giornata, giornata bellissima di sole e direi tutto da sfruttare. Bene, grazie allora, bel tempo, bandiera bianca, a domani Tommy e adesso i giornali. Cominciamo dal resto del Carlino. Baia Imperiale, il titolo d'apertura, ordinata la chiusura. Il questore stop di dieci giorni al locale di Gabicce dopo la notte caos di sabato, misure di sicurezza sotto accusa. A centro pagina, la fotonotizia, ciao guerriero, al campo sportivo l'addio a Enrico Foglietta, 16 anni, un ragazzo ucciso da una malattia in centinaia al suo funerale, i compagni di squadra intorno alla bara, la lettera dei genitori e del fratello. Hai combattuto fino alla fine, che ora tu possa sorridere. Sempre dal resto del Carlino, ricorso contro la pista di Valentino Rossi, siamo a Tavuglia, la spunta il pilota e dunque la spunta il pilota nei confronti dei vicini, dei residenti che abitano lì vicino alla pista. A Villa Fastigi invece, coltivazione con 300 piante di marijuana, c'è stato un arresto e senza distanze né mascherine, vergogna Ricci l'attacco di Fratelli d'Italia. Vedremo poi in che cosa e per che cosa dovrebbe vergognarsi. Garbi, sono felice di aver stoppato Boeri, il caso a Durbino, mercato WL, lo sport, il basket, adesso è vitale il vero obiettivo, presentato un'offerta, confermato l'interesse per Tyler Kane, o Cain si allontana l'ipotesi. Baldi Rossi invece, il Corriere Adriatico, titola in prima pagina, stangata su Baia Imperiale, sei ragazzini in cometilico, un ferito finisce all'ospedale, il questore chiude il locale per dieci giorni. E' segnalato anche il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e una clientela priva di mascherine. A centro pagina, in spiaggia, tornano anche gli abusivi controlli e sequestri. Ponte di Via Lamarca, gettata di cemento, insomma ok, pressing sul cavalcaferrovia, pressing per riaprirlo al più presto, rifiuti, più controlli e orari diversificati per il porta a porta. A Fanno, per San Paterniano, concerto di campane, ma niente tombola. Qui invece sotto, a caccia di aule, tra gazebo e biblioteca, sopra il luogo del comune di Pesaro. Andiamo a vedere la pagina, ecco, la prima pagina della nostra segna stampa. Siamo sul resto del Carlino, perché è la notizia del giorno, sicuramente sul fronte politico, alle regionali, la notizia ormai è al 99% ufficiale, in campo scenderà l'ex sindaco di Fano e attuale sindaco di Colle del Metaro, Stefano Aguzzi. Correrà per Forza Italia, correrà per far vincere Acquaroli e quindi il centrodestra, per il partito di Berlusconi si fanno anche i nomi di Margherita Mencoboni, Dell'Onti, Boni e Merisola. Allora andiamo a leggere un attimo l'articolo di Anna Marchetti, in parte l'articolo di Anna Marchetti, perché appunto, come dicevamo, si fanno i nomi anche della consigliera provinciale, oltre a quello di Stefano Aguzzi, Margherita Mencoboni, del sindaco di San Lorenzo in Campo, Davide Dell'Onti, del pesarese Pierugo Boni e del fanese Stefano Mirisola, che è anche ex consigliere comunale. Ma tornando ad Aguzzi, che certamente porterà tanti voti al centrodestra, due sono i temi su cui Aguzzi pone l'attenzione. La sanità e il completamento della Fano Grosseto. Sono 11 anni, afferma che il centrosinistra parla dell'ospedale unico e che ha azzerato tutte le altre strutture in nome di un nuovo nosocomio, che però non è riuscito a realizzare. L'emergenza Covid e i tanti morti di questa provincia ci devono far riflettere sulla medicina del territorio, sui medici di base che durante l'emergenza non avevano neppure le mascherine per fare le visite a domicilio. E poi parla della Fano Grosseto. Ieri intanto c'è stata la cena, ieri sera, della Ruspa a Sant'Ippolito. Sono stati ufficializzati i candidati della Lega e sciolto il nodo fanese delle candidature del consigliere regionale Mirco Carloni e del consigliere comunale Luca Serfilippi. Questa mattina, tra poche ore, tra mezz'ora circa, tra un'ora circa, alle 8, ci sarà una conferenza stampa a Fano, proprio della Lega. Poco trapele, invece, su Fratelli d'Italia. Gli unici nomi, certi, sembrano essere quelli dell'ex sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, dell'ex candidato sindaco di Pesaro, il capogruppo di Prima Cepesaro, Nicola Baiocchi. Il centrodestra fanese, scrive ancora Anna Marchetti, per le regionali metterà in campo dunque una vera potenza di fuoco con candidati che porteranno in dote un bel bacino di voti. Patrono annullata la tombola, ma c'è il concerto dei Rintocchi. Alle 21.15 saranno attivate anche le tre nuove campane installate a San Paterniano. C'è un programma che, ovviamente, per ovvie ragioni, come dicevamo all'inizio, insomma, è stato modificato. Comunque, le messe sono una in corso adesso alle 7, poi ce ne sarà una alle 8.30 e alle 10. E questa messe sarà presieduta dai Padri Cappuccini. Mentre alle 11.15 si svolgerà la concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Armando con la partecipazione delle autorità civili e militari. Poi un momento di fraternità offerto dai Padri Cappuccini, mentre alle 17.00 ci sarà un'altra messa celebrata dai Padri Cappuccini, alle 18.30 quella con il Ministro Provinciale Padre Sergio Lorenzini e alle 21.15, quindi ce ne è una anche dopo cena, nuova celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Armando animata dal coro della Cattedrale di Fano. E questa è la notizia sul Corriere Adriatico. Il Carrino torna questa mattina sul pasticcio Fondazione Cassa di Risparmio. Perché c'è la foto del Vescovo Monsignor Armando Trasarti? Perché, come vedremo tra poco e come molti ricorderanno anche dall'articolo di ieri del giornale, c'è stato un pasticcio sul nome scelto dal Consiglio dalla Terna della Curia. Corrado Piccinetti, che è uno di quelli che ha terminato il suo incarico all'interno del Consiglio Generale della Fondazione, che esce perché ha fatto già due mandati e non era rinnovabile, parla, risponde alle domande di Gennari del Carlino. E sulla vicenda del siluramento di Giovanni Rondini ha una visuale che ha il suo perché. Quando è stata presentata la Terna da parte della Curia, dice Piccinetti, vedendo il nome di Don Luca Santini, da 15 anni braccio destro del Vescovo Trasarti, qualcuno ha commentato che forse era lui l'uomo indicato dalla Curia. Rondini, il commercialista, lo definirei pignolo, ma devo aggiungere che negli ultimi tempi, rispetto al passato, il suo atteggiamento si era un po' ammorbidito. Insomma, una vicenda, commenta qualche osservatore ben informato e molto vicino alla Chiesa Cittadina, che ha anche degli aspetti comici, perché diciamo che i laici hanno votato per il prete ed invece gli uomini vicini al Vescovo e quindi al mondo cattolico hanno votato per Rondini. Perché la votazione è finita in questi termini. Sette voti sono andati a Don Luca e cinque a Rondini, su un totale di 14 aventi diritto. Niente mascherine e distanze. Segnaliamo Ricci, il sindaco di Pesero, al prefetto. Questa è la fotografia che ha indignato in tanti anche sui social. Fratelli d'Italia ha deciso di segnalare al prefetto il comportamento fuori luogo del sindaco Matteo Ricci e degli assessori consiglieri comunali che hanno partecipato all'inaugurazione di Dinner in the Sky. Che cos'è Dinner in the Sky? Lo diciamo in 30 secondi, spero. È un ristorante che viene, diciamo ristorante, insomma, è una tavolata dove dei commensali si siedono, vedete, in queste poltrone stile Formula 1, tutte con le cinture e questa tavola imbandita viene sollevata da una gru portata ad una certa altezza e lì le persone per un certo tempo insomma si fermano a mangiare o fare un aperitivo e la particolarità è che tutto questo viene fatto essendo sospesi in aria e appoggiati, agganciati a questa gru. Questo si chiama Dinner in the Sky. Ora, perché Fratelli d'Italia ha deciso di segnalare al prefetto il comportamento fuori luogo del sindaco Matteo Ricci? Perché, come era prevedibile, insomma, perché questa fotografia, insomma, come si vede non hanno le mascherine, poi è vero che sta mangiando un grissino, non è che si può mangiare con la mascherina, adesso diciamo la tutta, però uno quando va al bar non è che mangia con la mascherina, mangia, cioè se la toglie, chiaramente. Poi per il resto il distanziamento certamente è quello che è, ma comunque, indipendentemente da tutto, chiaramente non si può, forse è una questione di opportunità, si poteva evitare che, su questo si può discutere, perché comunque non dimentichiamolo che il sindaco poi è quello che firma l'ordinanza e che vieta ai ragazzi di fronte ai locali sabato sera di stare appunto vicini e di indossare obbligatoriamente la mascherina. Ecco, qualche giovane vedendo questa fotografia potrebbe dire, beh, vabbè, perché lui sta senza e io invece la devo tenere? Ecco, questo potrebbe essere un concetto, un'idea, però Fratelli d'Italia ne approfitta appunto anche per stigmatizzare questa situazione e scrive il giornale come era prevedibile l'ultima impresa volante del sindaco Ricci e di alcuni membri della sua giunta è stata mal digerita dalla stragrande maggioranza dei pesaresi. In particolar modo i frequentatori dei social che non hanno lasciato scampo agli atteggiamenti del primo cittadino che in spregio a regolamenti e ordinanze la maggior parte delle quali partorite dal sindaco stesso ha fatto a gara assieme ai suoi commensali a chi ne avrebbe infrante di regole insomma di più. Dal mancato distanziamento sociale all'uso promiscuo delle mascherine tra bracci e brindisi con calici che venivano a contatto tra risate e balletti improvvisati sulle poltroncine stile Formula 1 tutto quello che si sarebbe dovuto evitare è invece accaduto alla luce del sole a beneficio dei moderni cellulari e questa è la pagina del resto del calino. Andiamo invece sul Corriere Adriatico ecco il commissario Moretta tutto pronto per il primo Ciac una serie per la TV per Fano TV e per il web strumento di promozione del territorio. le riprese inizieranno ad agosto è l'idea che è venuta al regista fanese Henry Secchiaroli e che vede l'inizio delle riprese appunto se tutto viene confermato ad agosto quindi il prossimo il prossimo mese si tratta di un poliziesco televisivo tutto fanese sarà sugli schermi durante la primavera del prossimo anno qui su Fano TV si intitolerà il commissario Moretta due donne e tre fanti ed è una serie composta da cinque episodi che durano trenta minuti ciascuno sotto passi ciclopedonali per raggiungere il litorale prendono forma le opere di urbanizzazione del comparto Coop a margine dell'Adriatica siamo sulla statale 16 a Fano vicino alla caserma dei Carabinieri un cantiere che deve realizzare importanti opere pubbliche ieri pomeriggio si è svolto un sopralluogo al cantiere del comparto a destinazione mista in Viale Piceno 1 in zona Villa Uscenti lungo la statale 16 nell'area in cui stanno prendendo forma importanti opere di urbanizzazione a servizio del quartiere il sindaco Massimo Seri con il vice sindaco Fanesi il dirigente Giangolini e l'architetto Adelizi che segue l'esecuzione del piano attuativo hanno constatato di persona lo stato di avanzamento dei lavori rispetto alla convenzione con il comune il sindaco dice è un obiettivo che viene da lontano perché già 15 anni fa presentai una mozione e poi i fragili l'arte di Papagni leggera come i sogni a Palazzo Bracci Pagani le creazioni con suggestioni esoteriche e filosofiche vabbè in spiaggia tornano gli abusivi sequestrati a Levante e Ponente i venditori sono fuggiti alla vista degli agenti della Polizia Locale e degli uomini della Capitaneria tornano dunque i venditori abusivi e anche che vendono prodotti contraffatti in spiaggia e la Polizia Locale di Pesero assieme alla Capitanere di Porto ha messo a segno una retata e la fotografia indica un po' il bottino tra virgolette recuperato dagli agenti sul ponte di Via Lamarca la gettata vedete di cemento questa qua è ok dunque si accelera sull'apertura la riapertura della Statale 16 e del Cavalca Ferrovia l'assessore Belloni crede che questo si possa fare entro il 15 di luglio e per l'infrastruttura dei cappuccini rivela contatti con rete ferrovie italiane le novità legate al decreto semplificazione con dei bandi che prevedono bandi con poche imprese e solo specializzate in questi interventi e poi dal resto del carlino invece la notizia dell'ampliamento della biscia del circuito della pista di Valentino Rossi a Tavuglia è arrivato l'ockel del Tribunale Amministrativo Regionale del Tar Valentino Rossi dunque la spunta sui vicini a Tavuglia battaglia di alcuni residenti contro la pista di allenamento ma il ricorso viene bocciato l'avvocato della società del pilota dice questa è una realtà che porta valore aggiunto al territorio i vici e va in bicicletta travolta da uno scooter due sono gravi incidente ieri mattina in via Cimarosa coinvolti una donna e un giovane sono stati portati entrambi in eleambulanza ad Ancona è successo ieri mattina intorno alle 12.45 il risultato due feriti trasportati ad Ancona con l'elicottero le condizioni sono serie non è chiaro come sia potuto accadere l'incidente ma è probabile che lo scooter in sella al quale c'era un ragazzo abbia travolto una signora in bicicletta che stava attraversando la strada all'altezza delle costruzioni del Miralfiore mentre lampade alogene e sistema di irrigazione per far crescere sane robuste tutte le piantine di marijuana è stato scovato questo giardino dell'Eden stupefacente c'è stato anche un arresto da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro martedì scorso all'interno di un capannone in strada a Fonte Secco a Villa Fastigi a due passi dal carcere non solo oltre alle piante ormai prossime all'infiorescenza i militari hanno ritrovato anche 4,9 chili di erba e c'era anche il pollice verde creatore di quell'Eden da sballo all'interno di questa Maxi Serra illegale un 25enne residente a Pesaro da anni ma originario di Palermo il sindaco dell'Onti orgoglioso il sindaco è il sindaco di San Lorenzo in campo orgogliosi del bilancio dei 520 mila euro di avanzo di amministrazione 366 mila saranno accantonati per legge e 154 li potremo destinare ad investimenti e a lavori penso alla prosecuzione dice il sindaco soddisfatto della riqualificazione di Viale Regina Margherita o a qualche altra opera mentre da Urbino Sgarbi è felicissimo si dice è felicissimo di aver stoppato l'architetto Boeri io sono il responsabile della cultura e decido io dice Sgarbi non mi avevano avvertito di aver incaricato questo architetto che non è certo adatto per Urbino e qui spiega il perché la sorpresa dell'assessore Roberto Cioppi non sapevo che fossero in lite ma ancora dice non mi perdo d'animo l'opposizione invece parla di danno di immagini gravissimo perché decide chi non ha potere Giorgio Londei ma anche il PD insomma si uniscono per contestare la scelta per quanto riguarda invece la situazione nelle marche del coronavirus Pesaro e Macerata segnalano quattro casi ad Ascoli invece si cercano i contatti dei bengalesi sapete che adesso i bengalesi sono i più ricercati tra virgolette un po' in tutta Italia anche a Roma ce n'è uno che girovagava tranquillamente per la stazione prendendo taxi a destra e manca pur essendo positivo e sono quattro dicevo i positivi al coronavirus registrate nelle ultime 24 ore nelle Marche uno in provincia di Pesaro Urbino uno in provincia di Ancona e due in provincia di Macerata lo ha reso noto il Gores sono stati effettuati 1179 tamponi 660 nel percorso nuove diagnosi quindi per la prima volta e 519 invece nel percorso guariti sotto stretta osservazione c'è tutto l'Ascolano dove i due positivi San Benedetto del Tronto moglie e marito di cui abbiamo parlato anche ieri sono tornati con un volo da Dacca a fine di giugno i tamponi della coppia di Bengalesi hanno dato entrambi esito positivo facendo scattare l'allarme su un potenziale focolaio con tutte le misure annesse per i presidi ospedalieri da mercoledì agli ospedali di San Benedetto e di Ascoli dunque sono vietate le visite di parenti e amici ieri sera valutata anche la chiusura dei pollambulatori nell'area vasta numero 5 e poi si è scelto di andare avanti il problema è che la coppia non collabora per rintracciare le persone frequentate sul territorio ci sono 16 giorni da ricostruire per cercare potenziali casi positivi insomma potete immaginare adesso quale lavoro in questo caso c'è da fare andando a ritroso ma se la coppia di Bengalesi non collabora nel senso che è reticente o non si fa capire o fa finta o quello che è insomma il lavoro diventa difficile ma soprattutto le persone che hanno incontrato questa coppia potrebbero a loro volta diffondere quindi creare il focolaio la partita a carte finalmente nei bar e dai barbieri riecco i giornali questa è una buona notizia soprattutto per chi era abituato ad andare a prendersi un caffè o fare colazione e poi mettersi a leggere sfogliare il giornale magari evitando di pucciare il dito sulla lingua questo se ce l'avete come vizio o come tic insomma cercate di pensarci mettete qualcosa sul dito magari un cerotto o qualcosa in modo tale che vi ricordate che non dovete farlo perché quella è la cosa più devastante che possa esserci il girare sfogliare il giornale mettendo il dito sulla lingua allora comunque questa è la notizia insomma ecco il governatore ha sbloccato gli ultimi tabù post covid sia sauna ipodromi briscole 3-7 solo con la mascherina quindi si può giocare anche a carte però igienizzando spesso le mani quindi questa è l'accortezza che viene richiesta mentre per ecco qui sotto andiamo su questa pagina del resto del cammino per fare gli auguri a Severino Spadoni che coppie cento anni festa grande per l'ex bersagliere che oggi appunto spegne le sue prime cento candeline una vita passata nei campi una giovinezza segnata dalla guerra nei bersaglieri e dalla prigionia in Sardegna la sua è stata l'esperienza di tanti italiani come lui tanta fatica per guadagnarsi il pane una passione per la politica l'affetto e le cure dei figli e dei nipoti in questo giorno lo festeggiano i figli Brunello Maurizio Leonardo Ginetto Graziano Gabriele insieme a uno stuolo di nipoti e pronipoti ci mettiamo anche noi di Fano TV auguri al bersagliere 7 e 24 perché ci seguo in diretta allora velocemente la prima pagina vi faccio vedere il resto del Carlino ecco vedete in apertura Baia Imperiale ordinata la chiusura il questore stop di 10 giorni al locale di Gabicio dopo la notte caos di sabato dove 6 persone sono finite all'ospedale in coma etilico tutte potevano bere hanno raccontato liberamente misure di sicurezza sotto accusa ciao guerriero invece la fotonotizia si parla dell'addio a Enrico Foglietta 16 anni stroncato da una malattia mentre il Corriere Adriatico apre anche il giornale delle Marche con la stangata su Baia Imperiale 6 ragazzini in coma etilico un ferito finisce all'ospedale il questore chiude il locale per 10 giorni segnalato anche il mancato rispetto delle distanze di sicurezza e una clientela priva di mascherina a centro pagina invece gli abusivi che tornano in spiaggia controlli e sequestri con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito vi do appuntamento stasera alle 20 e 30 con il telegiornale vi ricordo alle 11 e 15 questa mattina la diretta da San Paterniano per la celebrazione eucaristica con il Vescovo Trasarti in occasione della festa del Santo Patrono buona giornata e buona festa a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti